Mettere insieme tanti ricercatori che lavorano su campi anche completamente diversi fra di loro per cercare di arrivare ad una migliore comprensione di patologie o anche semplicemente di meccanismi. We can hear what are advances in other area and then bring it to ours. There is a synergistic effect when you share ideas with other scientists. My interest is to try to connect with Italian researchers as well as other European researchers. Noi vecchi, per modo di dire, possiamo dare idee ma poi sono i giovani che le realizzano. Even in the age of mobile phones and of internet, personal meeting cannot be replaced. Mettono insieme anche persone che si occupano un po' del benessere in generale. Dalla biochimica alla malattia, noi vediamo il soggetto sotto tutti i punti di vista. Mi vengono nuove idee ed anche creare nuovi network. I'm a computer scientist, I'm working with digital image analysis but I find physiologists and medical doctors and so on. Un'opportunità grandissima per la ricerca scientific. The first speaker is Professor Sabadini. My very, very great pleasure to be here today to come back to Padua. I'm glad to see that the meeting is growing every year, growing in quantity and quality. Thank you very much Stefano and Hugo because it's a fantastic place here at Padua. a professor that is selecting the candidates for this clinical trial and they are mostly women because Lukas Kranach likes women probably. definitivi come in every that piece and his department goal is rather enjoyed. Grazie a tutti Grazie a tutti